Ben ritrovati con Storia di Golf, è il 23 luglio del 1995, interno, tardo pomeriggio di una domenica, pizzeria del Sestrier, tavoli affollati, piena stagione, bei tempi, dal televisore del locale, non è ancora tempo di schermi piatti, nasceranno anno dopo, passano immagini di golf dalla Scozia, completamente ignorate dai più. Ma all'improvviso, da un tavolino strategicamente collocato proprio di fronte al televisore, quattro persone saltano in piedi, urlando e abbracciandosi e lasciando perdere le pinze nel piatto. Cos'è successo? Semplicemente in quel preciso momento è rotolato in buca, alla 18 di St. Andrews, il pat da 20 metri di Costantino Rocca, che gli consente di andare a playoff con John Daly, mettendo riparo all'incredibile flappa subita pochi istanti prima. E chi sono allora quei quattro scalmanati che hanno preso a urlare e ad abbracciarsi? Si chiamano Edoardo e Francesco Molinari, Sergio Bertaina e Francesco Guermani, i loro maestri. Sono gli unici a cogliere l'importanza storica di quelle immagini e probabilmente, pur essendo all'epoca già abbiate da essere scratch sia Edoardo, 14 anni, sia Chicco, 13 all'epoca, nessuno dei due riesce a immaginare che anche loro saranno davvero capaci di ripercorrere le orme di quel grande campione Costantino Rocca e Francesco addirittura di far meglio andando a vincere l'Open Championship 23 anni dopo. Erano lì i due fratelli d'Italia, sì per le vacanze al Sestriere, ma soprattutto per lavorare a fondo e su un campo tecnico e scosceso come quello del Sestriere con i loro coach Bertaina e Guermani, perché la loro casa golfistica, il golf Torino, la Mandria, fino agli otto anni non aveva consentito loro per regolamento di accedere al campo e loro avevano preso, visto che swingavano già da quando avevano cinque, l'abitudine d'estate al Sestriere insomma a darci dentro. Le storie dei campioni sono spesso segnate da queste specie di imprinting di questo genere. Tiger Woods ha ispirato generazioni di giovani golfisti che adesso magari in campo lo battono come Justin Thomas, Bryson Deschambault, Dustin Johnson e tutta la nuova generazione, ma naturalmente nel romanzo di formazione di un campione ci sono anche momenti di caduta e nel suo anno favoloso, il 2018, Francesco Molinari ne ha rievocato uno speciale. È il 2003, otto anni da quella sera di pizze a bracci al Sestriere. I due fratelli sono ormai veri protagonisti sulla scena amateur internazionale. Francesco è in semifinale al Royal Throne, un campo prestigioso sud ovest di Glasgow, al British Amateur, il massimo per un dilettante europeo, match play. Se si qualifica per la finale acquisisce anche il diritto a giocare da dilettante il Masters Championship. Un sogno, un vero sogno. Al suo fianco ha Edoardo come caddy e dietro le corde a il caro e indimenticabile Giorgio Bordoni, il suo coach, che per lui è una sorta di fratello maggiore. Ma contro ha il grande Gary Wassenholm, 45 anni, uno che ha fatto tutta la carriera dilettante e passato proprio per scelta solo tra i senior. Chico perde, purtroppo, perde alla 18, stringe correttamente la mano all'avversario ma il labbro freme, sta tentando a trattenere le lacrime, ma le lacrime erompono a dirotto quando lui, Giorgio Bordoni ed Edoardo si ritrovano seduti sulle scale che sono davanti alla clubhouse del Royal Tron e piangono a dirotto per il sogno svanito. Avrebbero creduto, in quel momento, a una vocina che gli avesse detto, fra tre anni tu, Edoardo, giocherai il Master da dilettante perché avrai vinto nel frattempo l'US Amateur a Marion e lo giocherai con il campione in carica Tiger Woods perché, appunto, questo avrai maturato di diritto e Francesco tu gli farai da caddy e Tiger, vedendoti in tuttina bianca, ti dirà, ciao, piacere, chi sei, che cosa fai nella vita e se ne accorgerà Tiger di che cosa faceva e che cosa avrebbe fatto successivamente nella vita Francesco quando ci perderà contro l'Open Championship 2018 a Carnusti, quando lo incrocerà per tre volte il Ryder Cup anche perdendoci specie nel 2018 e quando dovrà lottare proprio con lui qui in quasi all'ultima buca per tornare a vincere un Major, il Master 2019. Quanti anni, quanta vita da quella sera di pizze e abbracci al sestriere. Arrivederci con Storia di Golf.